Un consiglio comunale definito ad intermittenza è quello di Ragusa, dopo che anche ieri sera è stato impossibile procedere con la seduta per non aver raggiunto il numero legale necessario. E non è tutto, dato che non è la prima volta che questo accade, in quanto era già stato rinviato giovedì, poiché anche in quell'occasione non si era registrato il numero legale dei partecipanti. Erano solo sette presenti e nonostante si sia indugiato per attendere una maggioranza, l'incontro dopo una prima parte è stato sospeso. Due giorni per provare a chiudere una seduta consigliare e nonostante i due tentativi non si è avuto nulla nei fatti. Ciò sembra ripercorrere le orme della dinamica del Consiglio di fine 2015, classificato poi come consiglio comunale singhiozzo a causa delle assenze. Questa situazione acuisce e fa rafforzare le tensioni tra i consiglieri e all'interno del Movimento 5 Stelle e con il gruppo partecipiamo. Questo uno degli argomenti affrontati giovedì, dato che il Movimento Pentastellato, senza i consiglieri Iacono e Castro, non potrà garantire la tenuta del Consiglio. Inoltre si è discusso sull'aperta questione del bilancio economico, che al centro delle querelle, tra alcuni esponenti 5 Stelle e l'assessore al bilancio Stefano Martorana. Quest'ultimo è stato attaccato di fatto dai grillini, Massimo Agosta e Maurizio Stevanato, proprio per il ritardo con cui si sta realizzando il bilancio preventivo del 2016. Stevanato comunica che per la presentazione di questo la scadenza è stata fissata per il 31 marzo, mentre al 30 aprile deve risultare approvato il bilancio consuntivo del 2015. A ciò si aggiungono le dichiarazioni di Agosta, secondo cui non ci si deve cullare su rinvie e proroghe, arrivando così tardi, ma i documenti economici devono arrivare per tempo, per dare un indirizzo politico alle scelte contenute in essi. Siamo stanchi, asserisce Sona Migliore, mentre Elisa Marino afferma che questa vicenda sta assumendo contorni politici imbarazzanti. La crisi deve essere discussa in aula, perché l'attività del Consiglio è in tilt. La Marino prosegue, dicendo che non è possibile che sia l'opposizione a tenere il bordone alla maggioranza. Infatti a Palazzo dell'Aquila è mancata una buona parte dei grillini, e neanche il sindaco Piccitto si è presentato in aula, e questo non può far altro che ripercuotersi sulla gestione delle esigenze cittadine, se in una fase di vera e propria stagnazione politica.